Liste depositate, ora la campagna elettorale entra definitivamente nel vivo, anche in provincia di Ragusa, volti noti e qualche novità tra le candidature nell'area eblea. Camera plurinominale comprende Catani e Caltanissette Ragusa e Siracusa. C'è il sindaco di Avola, Luca Cannata, capolista per Fratelli d'Italia. Forza Italia al primo posto, Paolo Emilio Russo, giornalista. La Lega, la senatrice, Valeria Sudano. Il PD, il suo segretario regionale, Anthony Barbagallo. I Cinque Stelle, Filippo Scerra, seguito da Vanessa Ferreri. Circoscrizione Sicilia 2, collegio uninominale. Alla Camera, sfida, Tranino Minardo, centrodestra, Gigi Bellassai, centrosinistra, Eugenio Saitta, Movimento Cinque Stelle, Salvatore Liuzio, azione, Italia Viva, Salvatore Giuseppe Canzoniere, sud, chiama nord, De Luca, sindaco d'Italia, Luigi Melilli, Italexit, Giuseppe Zisa, Unione Popolare con De Magistris, Franco Aprile, Forza Nuova. Al Senato, plurinominale, anche qua Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Forza Italia, capolista, l'ex ministro Stefania Prestigiacomo. Fratelli d'Italia, il presidente della regione uscente nell'Omusumeci, la Lega, Nino Germanà. Il PD, Antonio Nicita, mentre la capolista del Movimento Cinque Stelle, la sottosegretaria all'istruzione uscente, Barbara Floridia. L'uninominale al Senato comprende Ragusa e Siracusa e la sfida qui è tra Salvatore Salemi, centrodestra, Paolo Amenta, centrosinistra, Giuseppe Pisani del Movimento Cinque Stelle, Marianna Buscema di Azione Italia Viva, Antonio Guastella, sud, chiama nord, De Luca, sindaco d'Italia, Giorgio Piccione, Unione Popolare con De Magistris e Maria Fiore di Forza Nuova.